yo raga come è stato il vostro luke master che parla e oggi siamo qui su fix e gun per una bella modalità ma io tommo a palmi sono secondo test siamo sulla battle royale e non è più in meta a quanto pare wow solo adesso ok probabilmente nella royale aggiungerà un'altra roba tipo queste cose non sono abbastanza buttiamocene altre e si hanno aggiunto altre tante per fare un esempio allora perché c'è il coso della gestione proprio qua perché da una parte perché di qua c'è la mappa di qua c'è evita pausa cose varie e anche la vita evita pausa cose varie robe varie e quindi allora ricordate non è che mi servono così tanto quindi io o qualcuno qui è sciopone e non mi interessa sapere chi dai scendi 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 no sono preso prima io me ne vado me ne vado no 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 sali 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 allora vado qua dentro dove non c'è nulla sono tutto nel palto che schifo ok allora lì sopra ho visto una chest comune e ok il mio telefono si è appena rimesso in carica un po scemo il caricatore ok se ne è assolutamente fregato e ciò è bello si vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua verso una zona più sicura e oltre ok così la dovrei no no non mi dire che la barriera va a pinnacoli scadenti si la chiamo così io si quello è cieco non sei cieco ok sei slovacco dovrei zio ne ho bisogno quindi non toccare un cazzo no c'è la c'è la c'è l'armatura ma dai ma dove era chi dove quando ma cosa ma dai non ho perso niente minchia per fortuna prima vi è meno ineltro e poi sto per la registrazione perché se devo fallire così come un misero tanto devo preparare una cosa sicuro di questo mi daranno il copyright ma vabbè perché quello si chiama xxx perché sto qua si deve chiamare xxx cosa vabbè che cazzo l'ho mandato e ok sto preparando una cosa che è molto utile ok buttati buttati scelte buttati che morbido non manco per il caso ma se io vado di qua gli tira fuori prima il si ed è per questo che mi sono innamorato ancora di più di fortnite tarocco originale 2d visto dall'alto non c'è nessuna importanza se uccido questo riparto lo sai non riesco a uscire sto scherzando sono uscito sono uscito dal retro c'ho lo stomaco che mi stava facendo i capricci aspetta no perché l'ho fatto no non mi sono fatto nemmeno le munizioni perchè non ho deciso di buttarsi con la con la jeep buon salve signore il siotto ammazzo là c'è l'aerdrop mi chiamato verso l'aerdrop io vedete quel coso viola quello deve essere l'aerdrop devo andarci aspetta aspetta no non è l'aerdrop sta cosa cosa significa? non è che il punto d'incontro del team spera che mi unisco la festa boh ah 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 aiuto ma perchè? ma cosa te entra io? ah 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 vabbè per consolarci e sto qua non mi dire che questo era il mio se questo era il mio compagno minchia se lo piglio a schiaffi no perchè se era il mio compagno io giuro che poteva incazzarmi tantissimo è il mio compagno allora io muoio come un pirla e tu ti nascondi lì dentro e spari e cazzo così ti puoi notare ma vai a fare il culo va 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 te che ti ha creato ok la smetto la smetto perchè poi devo anche finire il video aspetta aspetta che ti vuole a te? vabbè che no non sono io quello io mi faccio mi richiedo la stessa amicizia un secondo vabbè niente comunque io ho finito qua scusate se avete visto che io sono forever alone e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao